Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi chiamo Nicoletta Beseo e sono la Sales Director di Twitch per l'Italia. Sono molto contenta di essere qui con voi oggi per raccontarvi la magia di Twitch e per parlarvi dei tanti motivi che spingono consumatori, creators, brand ogni giorno ad utilizzare il nostro servizio. Sicuramente alcuni di voi conosceranno Twitch, mentre per altri sarà un mondo totalmente nuovo. Abbiamo mosso i primi passi rivoluzionando lo streaming live, per poi decollare con il pubblico gaming. Ma se il gioco online fa sempre parte del nostro DNA, negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente in tutti i tipi di contenuti, arrivando ad essere molto molto di più. Quindi, che cos'è Twitch? Twitch è il futuro dell'intrattenimento. È intrattenimento live, reso possibile grazie ad una community globale di creators e super fan. È un luogo in cui tutto è in diretta e quindi molto autentico e spontaneo. Che cosa rende Twitch speciale? Twitch è engaged, è immersive, ha una forte community ed è live. Prima di tutto c'è il coinvolgimento del pubblico. Raggiungere l'audience di Twitch significa raggiungere un audience estremamente partecipe e interessata. Le persone si rivolgono a Twitch per vivere un'esperienza rilassata, consumando contenuti di lunga durata, paragonabili solo a quelli della TV. Con la differenza, però, che l'audience si mantiene partecipe durante l'intera visita al servizio, chattando ed interagendo con streamers e community, anche nel visualizzare gli annunci pubblicitari dei nostri partner. A rendere veramente speciale Twitch e poi anche la natura live ed immersiva del servizio. Pensate che più del 60%, una percentuale veramente altissima, del pubblico di Twitch, interagisce tramite chat con la community ogni giorno. La nostra community non si limita ad assistere passivamente, bensì è molto attiva e coinvolta nel servizio che viene ad utilizzare. Per alcuni aspetti è paragonabile alla televisione, tuttavia c'è una ragione per cui il pubblico ama trascorrere così tanto tempo collegato al nostro servizio. Twitch è molto immersivo. Twitch è televisione che risponde, è immediato ed è immersivo. In ogni istante si contano oltre 30.000 persone che interagiscono tramite chat in tempo reale con i nostri streamer e ogni giorno in tutto il mondo 31 milioni di persone partecipano al live streaming e si connettono con altri membri della community. È nella community che si materializza la magia di Twitch. È qui che sbocciano amicizie e nascono intese. È una vera community che condivide passioni, interessi e valori. Twitch vanta una community variegata, suo principale punto di forza, risultante dalla crescita rapida e inarrestabile del pubblico. Si tratta di un'audience ampia e varia, mossa da interessi che vanno ben oltre il gaming e spaziano dallo sport alla cucina, dalla musica al cinema. Ne risulta un servizio più olistico, che invoglia il pubblico a soffermarvisi più a lungo. Molti spettatori visitano Twitch per un motivo specifico e finiscono poi per restarci più del previsto, colpiti dai molteplici e interessanti spunti che vi trovano. A partire dalla categoria Just Chatting, che vi fa davvero sentire in compagnia di amici per fare quattro chiacchiere insieme. Poi la musica. Mentre nel 2020 si susseguivano cancellazioni di concerti in tutto il mondo, Twitch consentiva agli artisti di esibirsi e agli amanti della musica di assistere alle performance dei propri musicisti preferiti. In Italia, nella prima metà di quest'anno, i format e i talk show musicali sono cresciuti in maniera molto importante e vedremo questa categoria guadagnare sempre più rilevanza su Twitch. E poi, ultimo ma non meno importante, abbiamo la categoria dello sport. Un tempo relegato al mondo della TV tradizionale. Quest'area ha fatto registrare una crescita a dir poco stupefacente. Le generazioni più giovani chiedono nuove forme di intrattenimento in cui possono scegliere il loro presentatore preferito e parlare direttamente con lui o con lei. Questo è quello che Twitch come social TV può offrire. E cosa possiamo dire invece di tutto il mondo del finance? Beh, su Twitch, in brand del finance e dell'insurance, si possono sentire davvero a casa loro. I contenuti di Twitch negli ultimi anni si sono avvicinati molto al mondo del finance. Ci sono streamer che parlano di fintech, di bitcoin, di trading. Qui ci si può distinguere tra la folla, far leva sul potere culturale di Twitch e creare una connessione autentica con i consumatori, proprio nel luogo in cui questi consumano i loro contenuti preferiti. Su Twitch potete associarvi a contenuti per voi rilevanti, ma soprattutto ad un'audience giovane e coinvolta, di nuovi consumatori e potenziali nuovi clienti. Sappiamo che le generazioni più giovani stanno guadagnando quote di mercato. Il 2020 ha segnato il momento in cui la generazione Z è diventata la generazione più numerosa a livello globale, costituendo il 32% della popolazione mondiale, ma soprattutto il 70% degli utenti Twitch. Twitch parla alla giusta audience di millennials e Gen Z in modo originale ed autentico, tenendo gli utenti coinvolti, interessati ed ingaggiati. Se confrontato con i principali competitors, Twitch valta il più elevato tempo di visualizzazione. Essere presenti su Twitch significa non solo parlare alla giusta audience, ma farlo anche nella maniera più efficace. Per i player finance e insurance questo ecosistema si rivela ancora più interessante. Il 38% degli spettatori di Twitch sono interessati a temi di economia e finanza. Il 30% del pubblico di Twitch ha usato nell'ultimo mese siti web o app di banking, investimenti o assicurazioni. E ultimo ma non ultimo, l'assicurazione per l'auto e il servizio finanziario più popolare tra quelli acquistati online dagli spettatori di Twitch. Quindi, come possono interagire i vostri brand con Twitch e soprattutto con la sua preziosissima audience? Ci sono tre azioni principali da intraprendere. Le generazioni più giovani stanno guadagnando quote di mercato. È il momento di intercettare i millennials e la Gen Z. Twitch vanta un pubblico giovane, sempre coinvolto ed attivo, che torna su Twitch giornalmente per consumare dal vivo contenuti video. Il 72% dei viewers preferisce utilizzare un video per conoscere un prodotto o un servizio rispetto a qualsiasi altro canale. Noi siamo qui per aiutare voi e i vostri brand a comprendere meglio un pubblico giovane, perché per questo tipo di audience il marketing personalizzato deve necessariamente essere autentico e rilevante. Io vi ringrazio, è stato un piacere essere qui con voi e buona continuazione di giornata.